Anche io parteciperò come delegato all'assemblea del 9 febbraio a Bollate, il nostro tema è stato fare rete e sono emersi moltissimi temi principali tra cui l'incontro con i ragazzi e con gli adulti e anche il rapporto personale. Le parole chiavi che porterò a questa assemblea saranno il rapporto, l'incontro e lo stile. Vi aspetto il 9 febbraio a Bollate, tutti nessuno escluso per creare l'oratorio del futuro. Sono state molto utili le schede che ci ha offerto la FOMMA. Il mio tavolo ha lavorato sulla numero 10, quella della condivisione, del pranzo, perché secondo noi è molto importante l'allegria, la condivisione e lo stare insieme in oratorio, sono davvero fondamentali. Io mi porto tre parole che ho nel mio cuore, sono testimonianza, allegria e servizio.